La nuova giunta comunale di Serni è già al lavoro, ma per le deleghe bisogna aspettare martedì o al più tardi giovedì, ha detto il sindaco Luigi Brasiello. Per ora il primo cittadino preferisce non parlare di questo argomento, ma qualche indiscrezione già trapela. Stando ai rumors provenienti da Palazzo San Francesco, il ruolo di vice sindaco dovrebbe essere affidato a Maria Teresa d'Achille. A lei verrebbero assegnate anche le deleghe al personale e alle pari opportunità, mentre Luciano Sposato dovrebbe occuparsi di lavori pubblici oppure di urbanistica. Per Marco Amendola si parla di protezione civile, ambiente, viabilità e trasporti. A Roberto Di Baggio verrebbe affidato il compito di occuparsi di sport, di politiche sociali e delle problematiche delle borgate. Le deleghe alle attività produttive e al commercio dovrebbero essere assegnate a Cosmo Galasso. Brasiello potrebbe invece tenersi quella al bilancio, sicuramente la più delicata. Potrebbe mettere mano ai conti dell'ente affidandosi a un consulente esterno, che comunque lo affiancherebbe a costo zero. Tra le deleghe in sospeso anche quelle al turismo e alla cultura, ma non è escluso che vengano tenute in congelatore per poi essere assegnate a qualche consigliere oppure in caso di allargamento dell'esecutivo. Del resto Brasiello non ha affatto chiuso le porte e due esclusi in prima battuta dall'esecutivo, ossia Domenico Di Baggio per il Polo di Centro e Bici Antonelli di Sinistra Ecologia e Libertà. Credo che partire in questo momento con una squadra snella era importante per questa città. Poi dopo l'estate ci riuniremo, parleremo, ci confronteremo, magari ci arrabbieremo pure. Vedremo che cosa abbiamo sbagliato e che cosa è andato bene e lì tireremo le somme. Io credo che i due gruppi che oggi sono rimasti fuori e quindi il Polo di Centro e Selle devono stare tranquilli. Tranquilli perché sono gruppi che ci hanno aiutato moltissimo in questa campagna elettorale, si sono messi a disposizione e saranno sicuramente tenuti in debita considerazione al momento in cui ci incontreremo nuovamente.